Ma qual è il tuo sogno? Diventare con la Michael Jackson, assolutamente. Vabbè, è impossibile diventare con la Michael Jackson, però il mio obiettivo principale è ricordarvi. Anche riuscirci, diciamo. Sì, vabbè, è il mio sogno, provarci. Io ci sto provando comunque, però il mio obiettivo fondamentale è ricordare la del bordo e basta. Vabbè, è il mio sogno. 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 Vabbè, è il mio sogno.